C'è grande soddisfazione da parte della provincia per il rinnovo del contratto di servizio con Trenitalia. Ringrazio l'amministratore delegato per essere venuto qui a sottoscrivere ufficialmente il documento. Significa 13 nuovi treni, 88 corse, un aumento dei chilometri che passano da 1.700.000 km all'anno a 2.000.000 km all'anno. Il tutto per migliorare la fruibilità della rete e anche per migliorare la qualità. L'utenza dimostra di essere soddisfatta del servizio, lo siamo anche noi. Non ci saranno aumenti tarifari perché, come è stato detto in conferenza stampa, le tariffe le decide la provincia. E continueremo con queste iniziative incentivanti all'utilizzo del mezzo collettivo rispetto al mezzo privato. Cosa succederà nei prossimi anni rispetto all'interamento della ferrovia e l'interferenza con la Valciugana? È evidente che qualche disagio ci sarà perché il fine corso non potrà essere in città perché questo confliggerebbe con i lavori di interamento che dovrebbero partire nel 2027. Allo stesso tempo immaginiamo dei bus navetta che partiranno ragionevolmente da Villazzano o da Pergine per poter anche aumentare l'utilizzo del mezzo collettivo in favore da e per la Valciugana a Trento. Grazie. Grazie.